Allora io e Blame già lavoravamo in precedenza, parlo che ci siamo conosciuti io e Luca a settembre più o meno dell'anno scorso, corregimi se sbaglio, quando sono venuto a vivere fisso a Milano, ci siamo iscritti su Instagram, ci siamo beccati. Io e Victor Blame lavoravamo già in studio e da lì abbiamo organizzato una session in studio tutti e tre insieme e insomma in realtà da lì poi è passato un sacco di tempo prima che facessimo uscire questo progetto, non tantissimo tempo prima che scrivessimo per la prima volta il brano in realtà, perché il brano ha… Questo progetto era febbraio, gennaio, inizio 2022 praticamente. Ce lo portiamo dietro da un sacco di tempo, cosa che vabbè poi succede in realtà più spesso di quanto si pensi, però comunque ce l'abbiamo dietro da tantissimo tempo e essenzialmente niente, ci siamo trovati fin da subito, soprattutto anche perché tutti e tre abbiamo capacità creative sotto a 360 gradi, ad esempio loro due sono molto bravi, oltre sulla parte musicale, sulla parte di produzione, sulla parte di scrittura, anche su tutta la parte grafica e quindi abbiamo dato il via a un progetto che è nato quasi automaticamente, diciamo, da solo, ecco. Avevamo quasi finito il pezzo, non eravamo ancora sicuri come farlo uscire, se farlo uscire e poi dopo alla fine abbiamo capito che no, è uno di quei pezzi che devono assolutamente arrivare al pubblico e quindi abbiamo detto ok, ci mettiamo adesso d'accordo bene, capiamo come fare e il pezzo deve uscire, assolutamente. Era già finito comunque a febbraio. Era già finito, sia a febbraio o a febbraio. Almeno era a febbraio. Ci abbiamo messo tre giorni a fare il pezzo in realtà, però. Quindi, dimmi, dimmi, scusi. No, no, è tutto il organizzare le cose dopo, pensare a un'idea per il video, un concept in generale, tutta la parte poi creativa di tutto quello che c'è attorno che è tanto importante e tanto quanto la canzone, poi alla fine. E quindi per quello ci abbiamo messo mesi. Da che roba siamo partiti? Allora, è passato tanto tempo, quindi come puoi vedere, è ancora, però essenzialmente più o meno mi pare fosse partito, cioè ci siamo visti in studio, in realtà è partito più o meno da un provino che ha portato Luca, se non sbaglio. Era una, sì, era una bozza con delle chitarre e tipo una bozza di chitarra così, con due parole sopra. E poi l'abbiamo sviluppata con Victor e Gianomi, Blame e Gianomi, e perdonami perché ormai è la piuttura che qua ci vediamo a giorni alterni. Siamo partiti da una sua idea, poi ci abbiamo lavorato attorno, ecco, però siamo partiti a costruire da quello, essenzialmente. Tra l'altro una delle prime volte che ci vedevamo in studio per lavorare, perché all'inizio ci vedevamo in giro. Eravamo molto più produttivi all'inizio, quando non eravamo ancora abbastanza amici. Poi adesso è diventato più che poi è finita. Adesso si lavora un'ora su sette al giorno. Ma in realtà no. Cioè, posso dire che siamo sempre molto in linea? Esatto. Quello è perché probabilmente siamo molto sulla stessa linea, diciamo, di pensiero su certe cose. Poi è chiaro, ogni tanto qualche scontro su, no, secondo me dobbiamo fare così, secondo me dobbiamo fare così, c'è sempre. Esatto, quello che voglio dire è sì, cioè, sono situazioni che spesso si creano in studio, tra noi non si sono in realtà mai più di tanto create. Però è possibile, è possibile. È una cosa molto comune. A me è capitato di avere, cioè di scontrarmi con delle persone in studio, perché è giusto. È normale. Però è in un senso molto buono, non è uno scontro ovviamente. Però devo dire che tra di noi non succede mai. Anche perché ci siamo dati spesso, ci sono dati i nostri spazi su ognuno, doveva gestire le varie parti e quindi automaticamente nessuno è andato a calpestare poi l'idea degli altri. Anche perché, essendo sulla stessa lunghezza d'onda, siamo tutti d'accordo che le parti degli altri sono valide tanto quanto le nostre. Quindi non ci siamo mai calpestati, diciamo, l'uno sull'altro per le cose. Ma allora, il fatto che mi manca la mia ex ancora, probabilmente, quindi è totalmente un pezzo mio questo, lo sento al cento per cento mio. Ma essenzialmente invece, se da parte sua è la ex da parte nostra, mi hai di blame. In questo caso ci metto insieme, anche se poi il progetto nasce da me e all'ottica, come dicevi, di un progetto più grande futuro, di cui adesso non si può dire più di tanto. Però da parte nostra ci sono molte delle nostre sonorità a cui lavoriamo spesso insieme, che fanno parte un po' di tutta la wave, pop-punk, chitarra rosa. Sono cresciuto a punk, metal, rock, tutte queste cose qua, dagli anni 60 fino agli anni 80, quel periodo lì ce l'ho nel cuore, a livello musicale ovviamente, perché non c'ero io. Magari mentre a livello di produzione, io sono un pianista, vengo da quella scuola lì, ho fatto il conservatorio, eccetera. Lui è molto più panchettaro, rocchettaro, è un chitarrista, è bassista, bravissimo. E quindi spesso e volentieri troviamo insieme un punto di unione su questo sound qua. E quindi questo è il nostro più carattere in questo pezzo. Diciamo che in questo pezzo mi sono dovuto adattare di più io su questa cosa, perché io sono un po' meno sul pop-punk, su questo tipo di genere musicale. E però mi ci sono trovato, perché alla fine è uscita fuori un bel pezzo. Sicuramente. La prima direzione che abbiamo dato è cercare di rendere il pezzo il più acustico possibile, di registrare il più possibile. Che è una direzione che stiamo prendendo molto ultimamente. Parlo sempre al plurale, perché parlo di noi come studio, che lavoriamo spesso e volentieri insieme. E quindi la prima direzione è stata renderlo il più acustico possibile, cercare di registrare tutte le chitarre, registrare il basso, fare le batterie, eccetera. Anche per le batterie siamo andati in uno studio a registrare. È stata un'esperienza che sotto certi aspetti va al di fuori di come si lavora spesso, oggi, ai pezzi. Però è comunque un risultato che quando lo ottieni dà sempre qualcosa di più, ecco, rispetto magari a lavorare a qualcosa che suona esclusivamente elettronico, ecco. Senza nulla da togliere, ovviamente, però. Il videoclip è stato quasi un parto all'inizio, perché era partita da un'idea, poi l'abbiamo dovuto cambiare, abbiamo dovuto cercare delle quadre per riuscire a fare tutto in tempi ottimali, perché l'idea iniziale era una cosa che richiedeva sei mesi di lavoro, probabilmente. E allora abbiamo trovato, abbiamo mantenuto sempre l'idea di restare in un'epoca un po' anni settanta e quindi abbiamo trovato vari elementi famosi di quegli anni, insomma, infatti c'è la Cadillac, abbiamo trovato un diner. E poi mettendo tutto quanto insieme la storia, praticamente, c'è Blame che si innamora di questa cameriera, comunque si infatua, prende una cotta per questa cameriera e cerca in tutti i modi di avere il suo numero, comunque di... Di avere l'attenzione, diciamo, di questa ragazza senza ottenerla, effettivamente. Non si sa, non si sa, è rimasto... Finale aperto, è rimasto aperto. E parallelamente c'è la storia mia di io che mi sto invece lasciando con questa ragazza, o comunque c'è una discussione, c'è una litigata, e io però ci sto male, capisco che effettivamente non voglio distaccarmi da questa persona e quindi la voglio richiamare. Faccio una piccola aggiunta, essenzialmente l'idea del video è nata da lui, abbiamo iniziato a lavorare il video, la prima cosa che ho fatto io è delegare a lui la parte creativa, perché su queste cose lui è un vulcano di idee, ne tira fuori mille e ha tirato fuori lui uno script all'inizio molto bello, che poi abbiamo dovuto ridirezionare sotto certi aspetti, appunto per questioni di tempo, per di tempistiche, per questioni di pratiche, effettivamente, perché poi... quando vai a lavorare un video devi riuscire a unire il risultato che vuoi ottenere alla praticità e alla fattibilità dello script, del progetto. E niente, però abbiamo mantenuto un'ottica anni 70, che come diceva Luca appunto, siamo riusciti a replicare andando nel diner e soprattutto prendendo la Cadilla, che io lo voglio sottolineare perché sono super fanno. Perché l'ha guidata. Perché l'ha guidata. Perché l'ha guidata. Una Cadilla del 59 e niente, si guidava benissimo, volevo passarci tutta la giornata. Targata, poteva anche andare in autostrada. Importantissimo secondo me, e se ne è occupato Blame. Io, perché volevo dare comunque un tono anche di contrasto rispetto al pezzo, che comunque sono sonorità che in realtà appartengono più a un periodo tipo degli anni 90, in realtà 92.000. Però questa estetica vintage, oltre ad essere già abbastanza portata a livello dei media in generale, in questo periodo, che c'è quel ritorno del vintage, portare appunto un'estetica del genere è stata una scelta poi dopo per riuscire ad avere un'estetica generale, che può essere portata da tutti quanti, sia a livello di outfit, a livello di video, a livello... Cioè comunque seguire un'estetica generale aiuta anche a portare avanti il progetto in una maniera sensata. Sicuramente è una generazione che sta cercando di trovare... che vive nei social, che diciamo sono un mondo che tende a darti sia tantissimo e toglierti anche un sacco di libertà. E quindi diciamo che viviamo in un momento dove tutto è molto squadrato, cioè tutto deve essere fatto in un certo modo, devi essere rispetto a certi standard che vengono visti online, però allo stesso tempo siamo una generazione, secondo me, che sta cercando di farsi sentire un sacco. E quindi questo fa molto la differenza anche nella musica che facciamo, nelle parti artistiche, diciamo, di molti della nostra età, della nostra generazione. Io non aggiungo niente, sono d'accordo. Diciamo che i social sono degli strumenti potentissimi che se sfruttati bene possono dare tantissimo, però è anche facile farsi sopraffarre dai social e è una cosa che, vabbè, capita ovviamente. Se si deve parlare di generazione Z, inevitabilmente si arriva su questo argomento qua. Però è la stessa cosa che avrei detto io, che comunque parliamo di una generazione che ha molto da dare, ha molto da dire e ha molto da comunicare e che vuole dimostrare molto. E quindi sono d'accordo con quanto ha detto Blame. E vuole dimostrare i coetanei. Sì. Esatto. L'obiettivo è quello di impressionare i propri coetanei, forse, a volte. Ci sono pochi, rari casi in cui effettivamente si fa qualcosa per il puro piacere di farlo e va, o puro piacere personale e basta. È diventato anche un mettersi in mostra o comunque far vedere anche agli altri che sto facendo una cosa X. Più che altro con tutta l'informazione, tutto quello che riceviamo online, che quindi abbiamo input da tutte le persone in tutto il mondo, anche riuscire a sentirsi unici, che un tempo era magari forse più facile, perché vivevi con un mondo che non riuscivi a vedere effettivamente. In realtà non è che eri unico. Esattamente. È soltanto che tu conoscevi 50 persone. Esatto, conoscevi una cosa molto più limitata. Mentre adesso, vedendo tutto, anche la ricerca di cercare di sentirsi unici e qualcosa di speciale è molto più difficile. E quindi questa cosa, secondo me, caratterizza molto anche certi estremi della nostra generazione che cercano di farsi notare in mezzo alla nostra. Beh, allora, un motivo per cui non rinuncerai mai oggi perché a me, io vivo molto nel futuro, quindi sono estremamente contento di quello che abbiamo oggi, delle possibilità che abbiamo oggi. Cioè, oggettivamente, senza la possibilità di fare musica come la facciamo oggi, e poi faccio un paragone per come si faceva una volta, io, ad esempio, posso dire che non sarei mai riuscito ad arrivare a fare quello che faccio perché i primi pezzi che ho prodotto e che hanno ottenuto dei risultati li ho fatti da camera mia con un portatile. E questo non si poteva fare 40 anni fa. Fino a 50 anni fa lavoravi su un astro. Produrre un pezzo era una cosa effettivamente costosa. Il ruolo del produttore era totalmente diverso. Cioè, hanno lo stesso nome, ma sono due cose diverse. Una volta il produttore era chi metteva i soldi per riuscire ad arrivare, ad avere un pezzo effettivamente esteso e completo. E questo però, ovviamente, ai tempi portava anche la musica ad essere molta meno e molto più di qualità di base. Non che oggi sia più brutta, era più di qualità quella che usciva perché era molto più difficile andare in studio a lavorarci, era molto più costoso. Quindi i gruppi magari studiavano un anno prima di andare in studio a registrare. Oggi chiunque può fare musica, che è una cosa bellissima, secondo me oggi c'è un processo di democratizzazione della musica fantastico, perché chiunque può farlo, chiunque può riuscirci. E questo dà un sacco di speranza a tutti. Dall'altra parte vuol dire anche, comunque, che il mercato musicale è molto saturo ed è sempre più difficile trovare i talenti in mezzo a tantissime persone che fanno musica, che, ripeto, ha dei pro e dei contro. Certo. L'unica cosa che potrei dire che quasi mi piacerebbe dei vecchi tempi è la scoperta dei nuovi suoni, delle sonorità che sono arrivate, vedere come il mondo effettivamente è cambiato insieme, cioè aver vissuto un periodo dove hai visto il mondo cambiare e la musica cambiare con quel periodo, perché la musica rispecchia molto quel periodo storico, quel periodo storico in cui stai vivendo. Quindi vedere quel cambiamento dagli anni 60 fino agli anni 2000, veramente la musica ogni dieci anni era completamente diversa, quindi vedere quella cosa sarebbe stato bello, però allo stesso tempo comunque la stiamo vivendo anche noi nel nostro periodo e ognuno è più dei propri tempi, quindi ci sta. Aggiungo una cosa veloce, il nostro periodo, una caratteristica del nostro periodo ha dimostrazione del fatto che comunque quel periodo musicalmente è stato molto positivo, il nostro periodo è caratterizzato da dei periodi dove ci sono nuovi caratteri musicali e poi dei periodi di richiami al passato, ci sono sempre, sempre ci saranno, e lo stiamo facendo noi in questo momento, perché effettivamente ci sono un sacco di sonorità che è bello recuperare, perché comunque, esatto, stiamo parlando di un periodo in cui c'era molta sperimentazione e spesso e volentieri uscivano fuori sonorità bellissime che ancora oggi vogliamo ascoltare.